Ora iniziamo l'elezione del Meneito Il Meneito Il Meneito Inizia il nostro viaggio facendo l'autostop E ancora destra, 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 sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, sinistra Il primo paese dove arriviamo è Honolulu Movimento Honolulu Il Meneito 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 si continua ancora destra, 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 sinistra, 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 ancora destra, destra, giro, sinistra, sinistra, destra, 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 destra e per ultimo Portiamo tutti le mani su e giù ancora al mio via A quattro e... Uno, due, tre, quattro Su e giù Su e giù Insieme su e giù Tutti su e giù E' Menehito su e giù Bene su e giù E' Menehito pipì Su e giù Continuiamo a bailare E' Menehito, il 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 menehito, No, 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 no. No, 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 no.